buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo una piccola monografia dedicata alla lente di ingrandimento è un'introduzione al concetto di lente di ingrandimento a come funziona la lente di ingrandimento, breve cenni storici e vediamo un po' alcune caratteristiche della lente di ingrandimento, diamo un'occhiata al sommario partiamo con le lenti di ingrandimento proviamo le caratteristiche di una lente biconvessa, ingrandimento angolare, i menischi, lenti di ingrandimento con reticolo, lenti piano convesse, utilizzo pratico delle lenti di ingrandimento osservazioni di caratteri stampati, le aberrazioni, i tipi di aberrazioni, la rifrazione, giocare con i principi dell'ottica, dove e come si forma l'immagine di un oggetto osservato con una lente di ingrandimento, abbiamo delle tabelle, glossario e bibliografia, speriamo di essere stati utili con questo piccolo video, buongiorno e arrivederci